Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale in queste ore Gwenda Goria è diventata mamma. Si tratta di un traguardo importante per lei e il compagno Mirko Gancitano con cui sta insieme ormai da diverso tempo. L'annuncio della gravidanza era stato dato tempo addietro, ora è arrivata la bellissima notizia. Dobbiamo ricordare, prima di procedere con il nostro racconto, che Gwenda Goria non ha assolutamente trascorso un periodo positivo in quanto è stata colpita da problemi di salute moloserii. In particolare ella è stata affetta da endometriosi, motivo per il quale si è anche dovuta sottoporre a una delicata operazione di rimozione di una cisti seguita poi da un'altra operazione ancora più invasiva in cui l'è stata asportata a una tuba. In quel frangente i medici le avevano detto che non poteva avere figli in modo naturale. E invece è accaduto il miracolo. Gwenda ne aveva parlato alla trasmissione La Volta Buona in cui era apparsa molto emozionata. Adesso la bellissima notizia è arrivata. Il piccolo Noah è nato e la famiglia si è unita attorno a Mirko e Gwenda che festeggiano insieme questo straordinario traguardo. Ho bussato alla porta e sono entrato alle 10.30 di questa mattina nella vita di mamma e papà. Mi chiamo Noah e peso. 3,8 kg. Così ha scritto Mirko Gancitano presentando il figlio su Instagram. Tantissimi in pochissimo tempo i commenti arrivati all'indirizzo della coppia. Grazie a tutti.